Ed eccoci qui ragazzi in una nuovissima puntata con il nostro Luigi Ceco nella carriera giocatore Il nostro Luigi Ceco ha ricevuto un infortunio, è ancora incerottato quindi salterà le prossime 3-4 partite di campionato e di Champions League E si perderà anche la partita di andata e la partita di ritorno contro il Bayern Monaco Vediamo se i bianconeri senza il nostro grande talento riusciranno a portare a casa la qualificazione Al turno successivo Eccoci qui gioca con Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Chiedira, Quadrato, Marchisio, Pjanic, Alexandro, Higuain, Di Bala e finisce 2-2 Due gol in trasferta per il Bayern Monaco Non è facile Ha perso anche Higuain per infortunio, iperstensione al ginocchio e adesso ci voleva Luigi Ceco In campionato siamo costretti a inseguire l'Inter e quindi oggi contro il Palermo deve cercare assolutamente di portare a casa 3 punti Ok, in attacco c'è Mandzukic e Di Bala quindi non c'è Higuain per infortunio, la partita finisce 1-1 Posso salutare il campionato la squadra bianconera Partita di ritorno contro il Bayern, se finisce 0-0 o 1-1 il Bayern Monaco si porta a casa la qualificazione al turno successivo Andiamo a vedere Ok, non ci sarà ancora una volta Higuain quindi Mandzukic e Di Bala in attacco Vediamo il risultato, speriamo in una qualificazione 2-0 per il Bayern Monaco Quindi la Juventus può inseguire ancora il sogno del campionato Finisce qui l'avventura in Champions League Siamo pronti a ritornare in campo Quindi, occhio, dobbiamo cercare assolutamente di portare a casa tanti punti e aiutare la Juventus Questi sono gli obiettivi che ci chiede Massimiliano Allegri Si aspetta una valutazione media, minima di 9 Vuole che segniamo un gol Vuole che manteniamo una percentuale di realizzazione pari al 14% Le nostre prossime avversarie sono il Genoa, il Napoli, l'Atalanta e il Torino Non sono partite facili Alla 32esima giornata abbiamo 8 punti di distacco dall'Inter È quasi impossibile vincere il campionato Contro il Genoa giocheremo come alla destra Mancano 7 partite al termine Le dobbiamo vincere tutte e 7 Sperare che l'Inter lasci per strada qualche punto Match iniziato Calcio d'angolo che batte Pjanic Vediamo, siamo al nono minuto Palla che scende e il colpo non arriva Non tira nessuno Il passaggio, ancora Luigi Cieco nell'area di rigore La mette in mezzo, palla deviata Iguain, la palla rimane lì Colpo di testa, calcio di rigore Fallo di mano La spazza e la butta in calcio d'angolo Rincon, se non ho visto male Quindi la batterà di sicuro Di Bala E beh sì, mica la può battere Luigi Cieco Vediamo se Di Bala sbaglia di nuovo il calcio di rigore All'undicesimo Di Bala E il portiere c'era quasi arrivato 1-0 Juve, forza Rattoppiamo adesso Bravo Di Bala Assaggio per Lemina Tocco ancora Lemina Affanculo a m***a Bravo Alex Dai, igua Passala la tira Appena gli arriva il pallone sul piede vai Attenzione al Genoa Chiusura di Lemina Ah, ancora Lemina Niente da fare Ok, Alexandro Vai Alex Perde il pallone Niente da fare Il Genoa cerca di tenere il pallone Che cosa fa? Non l'ha visto, è caduto Ha cercato il contrasto e è caduto lui Attenzione al Genoa Che cerca La parata e il tiro Ed è gol Pareggia il Genoa Ma importa, c'è Buffon Non mi sembra Non è Buffon Ma è neto 1-1 1-1 Lazovic No, no, no Attenzione al Genoa Pallone alto Ma Calcio d'angolo La batte Pjanic Palla che scende Niente da fare Chiede il pallone Luigi C'è col tiro Oh mio Dio Fa la barba al palo Guardate che tiro di destro Lì d'esterno Il pallone Oddio Entra Mandzukic Esce Iguain Ha capito Ha capito Dai, 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 dai Forza Luigi Smarcati Mandzukic Devi smarcarti Smarcarti Se no come te la passo Ancora Luigi Tocca a Mandzukic Mandzukic Il tocco è buono Anche questo Il passaggio di Dybala Per Luigi Che non arriva di pochissimo Oddio 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 Mamma mia Mamma mia Mettimi in attacco Non è fuori gioco Mica me l'ha passata Genoa che cerca la vittoria Palla lì Il tiro Fuori Meno male La svirgolata Vai 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 Passaggio a Aleksandro No no Di Bala Di Bala Di Bala Palla al piede Passaggio a Luigi Cieco Fuori La tiene Tira E la parata del portiere Mettile in mezzo Niente da fare Il tiro Palla deviata Il tiro Palla deviata Niente da fare Finisce 1-1 Molto probabilmente L'Inter Ritornerà Campione D'Italia Migliore in campo Di Bala Perché ha battuto Il calcio di rigore Procurato da me E di Guain Vabbè Match contro il Napoli In trasferta Non siamo stati inseriti Nella formazione Di oggi Uno dei migliori in campo Con 7 di valutazione Senza battere il calcio di rigore Non lo metti Iguain E Di Bala In attacco Vediamo il risultato 0-0 Addio Match contro l'Atalanta E mi ha inserito Nella formazione Di oggi Andiamo a vedere Se ci rimette Come esterno destro O come punta Perché se ci mette Come punta Il gol lo facciamo Di Bala Iguain In attacco Luigi Cieco A destra Ok Atalanta Juventus Iniziata La tiene Luigi Cieco Salta l'avversario Ecco Luigi Cieco Una serie di finte Eccolo qui Ancora Luigi La va a toccare Sulla fascia Pjanic Pjanic di nuovo Per Luigi Che Iguain Iguain Ok Finta di Luigi Salta l'avversario Luigi nell'area di rigore Si mette in mezzo Di Bala Ma che cosa Come giocano Luigi Ci prova Questa volta Il difensore Che fa muro Ancora il tiro Neto in porta Neto in porta Che va a far falle Lì doveva uscire Su di lui Il pallone E su di lui Il pallone Non la blocca Non esce Guardalo Segna Paloschi Una zero Atalanta Mamma mia Che brutta Juve Guardami Guardami Che cazzo fa Calcio d'angolo Per l'Atalanta Al recupero Del primo tempo Palla che esce Guarda Non la blocca Esce A cacchio Ma non le allunga Le mani Quel portiere Finisce il primo tempo Ok Il tocco Il tocco Grazie per il passaggio Attenzione Il tiro La parata del portiere La rimette in mezzo Che Madonna Che cross è Palla che Gira il portiere Con i pugni Pjanic ancora Pjanic ancora Chiede il pallone Luigi Ceco Si infila Luigi Ceco Eh la svirgola Attenzione All'Atalanta Neto Questa volta Le allunga Le braccine corte Il problema Sono i calci d'angolo Adesso esce a vuoto Già lo so Eccolo lì Eccolo lì Mamma mia Da calcio d'angolo E da punizioni Neto Mamma mia Ragazzi Mamma mia Fa la finta di uscire Poi la tocca Ma che cacchio fa Ma guarda qua Con la testa La portiere Madonna Riscambiala Riscambiala Ok Luigi Ci prova da lì Il tiro Attenzione Punizione Punizione Come un calcio d'angolo Pallone in mezzo Colpo di testa E quasi gol Attenzione Mettila Mettila Luigi Ceco di testa Traversa Oddio Che sfortuna Pallone lì Guarda guarda Finisce La Juve Perde 2 a 0 Sia per colpa Di Neto Sia per un attacco Che non esiste Gli unici tiri in porta Dei bianconeri Sono stati fatti Da Luigi Ceco Che ha colpito Anche la traversa Verso L'85simo Del secondo tempo Infatti Come potete vedere Dai voti Luigi Ceco È il migliore Della Juventus Con 7,4 A 4 partite Dalla fine Abbiamo 10 punti Di distacco Dall'Inter Derby contro Il Torino Siamo titolari Vediamo se ci mette Ancora come esterno destro Esterno destro Tutto pronto Il Torino batte Bello il tocco A Marchisio Marchisio la tiene Marchisio si gira Il passaggio Luigi Ceco Luigi Ceco Ancora pala al piede Se ne va Attenzione Prova a metterla in mezzo Il colpo di testa Che non arriva Luigi Ceco Luigi Ceco si gira Ancora salta l'avversario Luigi Ceco Nell'area di rigore Luigi Ceco Mamma mia Il difensore salva Ma Belotti Bello sto passaggio Da Samoa A Samoa Madonna Che schifo Luigi Luigi La va a toccare Iguain Iguain Se ne va Ancora Iguain Iguain Adesso sterzerà La passa Luigi Ceco Luigi Ceco Prova il tiro Palla deviata E poi la sforbiciata Di Di Bala Palla Che scivola Fuori di pochissimo Mamma mia Mamma mia Che tocco a Di Bala Ho fatto Ma che tocco a Di Bala Ho fatto Ma è come non darlo a nessuno Perché Luigi Ceco Ci prova da solo Mamma mia Cosa ha parato il portiere Primo tempo 0 a 0 Tiriamo solo noi E muoviti Vai 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 Guain Vai Guain Oh bravo Vai Guain Cade Fallo No Ha fatto fallo Iguain Oddio Pure ammonito Pure ammonito Iguain Questo fa solo pasticci Madonna come l'hanno fatto brutto Fa vedere Luigi Passaggio c'è Luigi Fa una finta Salta l'avversario E nell'area di rigore La colpisce Mamma Che piedi ha A ferro da stiro C'ha Mo si prendono pure il caffè In difesa Ma io dico Ma come gioca L'intelligenza artificiale Che poi giochi con la Juventus Non con il Civita vecchia Dai 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 Luigi Ceco Uzza 1 a 0 Se segna la Juve Segna lui Se non segna lui La Juventus Ha segnato sul rigore Con Di Bala Guarda che Guarda qua Guarda che destro Guarda che destro Guarda che destro Ammirate gente Il primo vero tiro Di Luigi Ceco Della partita Ed è gol Batte anche Hart Prova subito il Torino C'è spazio Sulla fascia Non è tornato Luigi Ceco Riesce a spazzare Riesce a spazzare Dai Colpo di testa Attenzione Va via la Juventus Contropiede Giustamente Adesso Segna Di Bala Segna Di Bala 2 a 0 Ovviamente Adesso prendo 9 in pagella Ma adesso Di Bala Fa il secondo Il terzo gol E diventa il migliore in campo Ovviamente Chi ha sbloccato la partita È il sottoscritto Ma vai Vai Di Ceco spinge La palla rimane lì Cercato il passaggio Ancora Luigi Ceco finisce 2 a 0 La sblocca Luigi Ceco E poi i meriti Se li prende Di Bala Lo ripeto E lo ribadisco Mandzukic 8.8 Migliore in campo Ovviamente Chi può essere Ucicat 7 punti di distacco E mancano 3 partite Ovviamente L'Inter Ha già Mezzo scudetto Cucito sul petto Ragazzi Finiremo Il campionato La prossima puntata Lasciate tanti Bei pollicioni In su E poi ovviamente Nell'ultima puntata Vedremo Se supportate Questa serie E faremo Una seconda stagione Un bacione a tutti Da Pierre Dark Knight 91 Questa è la formazione Del Napoli 4-3-3 Attenzione Insigne E Milik Sarà difficilissima Iniziata Ok Ancora lui Il passaggio Non è riuscito Attenzione Scarica Sommer Scusate ragazzi Se urlo Ma Sono proprio In partita Scusate ragazzi